Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la festa delle donne. Augurio a tutte le donne! Viva le donne! Happy Woman Day! La mulzane tuturor femeilor! Aspettate un attimo, mi devo far vedere due lavoretti. Qui c'è un masso delle mimose e qua c'è di nuovo la mimosa. Vi offro a tutte le donne un masso di mimosa. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Augurio a tutte le donne!